Bene, cosa mi aspetto dai Vescovi italiani e cosa chiedo loro? Sarebbero tante cose da dire, ma prima di tutto mi aspetto di essere considerato una persona umana, un essere umano, di essere rispettato come tale. Non ci sono persone di serie A e persone di serie B. Non ci sono i preti e noi, non c'è una barricata, siamo tutti fratelli, esseri umani, esseri viventi di una sola madre terra. Abbiate il coraggio di scendere nel nostro dolore, di ascoltarlo e di fornire riparazione, guardarci negli occhi, parlare con noi invece di combatterci. Noi ci siamo. E voi?